6 milioni di euro per l'efficientamento delle aziende del territorio, un progetto ambizioso di Estra che vede anche il partenariato di Confindustria Sud. Ma in cosa consiste? Estra si muove direttamente verso le aziende. Si, ci muoviamo come Esco con Estra Clima del gruppo Estra offrendo 6 milioni di euro al nostro territorio, andando incontro ad aziende, alle nostre imprese che vogliono fare importanti interventi di efficienza energetica. Ormai la competitività nel mercato dell'energia ha sfruttato i margini reperibili per risparmiare a livello di costo energetico. E l'unico settore ancora da esplorare in maniera compiuta è quello del rinnovo dell'efficienza energetica, quindi dell'implementazione del rinnovo dei nostri impianti. Estra mette a disposizione queste risorse importantissime sostituendosi agli imprenditori e ritrovando questo investimento nell'ammortamento di una bolletta che ci auguriamo anche più leggera. Di sicuro è una buona occasione per le nostre imprese che devono, su tanti fattori, ma soprattutto su quello energetico, tentare di recuperare competitività. In questo caso, oltre alle competenze e le consulenze che Estra mette in campo per le imprese che vogliono modificare i loro processi produttivi affinché siano più efficienti, il vantaggio dell'ESCO con Estra CRIM permette anche di avere un sostegno finanziario. Queste sono quelle iniziative win-win dove due imprese, Estra da una parte, l'impresa che fa il progetto, tutte possono collaborare ed avere il loro beneficio in termini di risparmio energetico da una parte e in termini di investimento per Estra.